3, 2, 1, vai, vai, 30, destra 3, destra 3, in sacrifica destra 2 no, sacrifica 2 no, per sinistra 3, sinistra 3, in allarga, sinistra 3 chiude diventa 2, allarga, 3 chiude diventa 2. Tornante destro, chiude 2, tornante destro, per tornante sinistro, 100, e attenzione, chicane sinistra destra, chicane sinistra destra, 50, chicane singola, entra sinistra, chicane singola, entra sinistra e sacrifica. Tornante sinistro, in a destra 2 no, sacrifica tornante sinistro, in a destra 2 no, 70, e sai a destra per tornante sinistro, no, sai a destra, tornante sinistro, no, 100, e sacrifica tornante destro, per tornante sinistro, sacrifica tornante destro, per tornante sinistro, 30. destra 3 non era voluto destra 3 in non tagliare destra 2 sacrificala per sinistra 3 sinistra 3 in allarga sinistra 3 chiude diventa 2 3 chiude dove sta andando chiude diventa 2 per tornante destro tornante destro per tornante sinistro tornante sinistro 100 e attenzione chicane sinistra destra chicane sinistra destra 50 chicane singola entra sinistra sacrifica tornante sinistro in a destra 2 no sacrifica in a destra 2 no 70 e stai a destra per tornante sinistro no stai a destra tornante sinistro no 100 e sacrifica tornante destro sacrifica tornante destro per tornante sinistro sinistro occhio non pergo me prima tornante sinistro e 30 e 30 e 30 destra 3 in destra 2 non tagliare sacrifica 2 non tagliare sacrificala per sinistra 3 in allarga un po' di meno sinistra 3 chiude 2 sinistra 3 chiude 2 per tornante destro tornante destro tornante destro per tornante sinistro e 100 e attenzione chicane sinistra destra sinistra destra e chicane 50 chicane sinistra singola e sacrifica tornante sinistro sacrifica il tornante sinistro in destra 2 no destra 2 no e 70 stai a destra per tornante sinistro no stai a destra tornante sinistro no 100 e sacrifica tornante destro sacrifica tornante destro per tornante sinistro e 30 destra destra 3 in sacrifica destra 2 no sacrifica destra 2 no per sinistra 3 in allarga sinistra 3 chiude 2 sinistra 3 chiude 2 per tornante destro tornante destro per tornante sinistro e 100 e attenzione chicane sinistra destra sinistra destra 50 chicane singola sinistra e sacrifica tornante sinistro sacrifica il tornante sinistro in a destra 2 no destra 2 no 70 stai a destra per tornante sinistro no a destra per tornante sinistro no 100 e sacrifica tornante destro per tornante sinistro tornante destro sacrificalo e tornante sinistro 30 30 destra 3 in sacrifica destra 2 no sinistra 2 sacrifica no per sinistra 3 in allarga sinistra 3 chiude 2 per tornante destro c'è giù la ghiaia chissà che la portata marbo tornante destro per tornante sinistro e 100 e attenzione chicane sinistra e destra mi sa che non ci stai sinistra e destra e 50 chicane singola entra a sinistra per sacrifica tornante sinistro sacrifica tornante sinistro in destra 3 in destra 2 no destra 2 no e 70 stai a destra per tornante sinistro no tornante sinistro no e 100 sacrifica tornante destro sacrifica tornante destro per tornante sinistro e 30 destra 3 destra 3 in sacrifica destra 2 no destra 2 no per sinistra 3 in allarga sinistra 3 chiude 2 sinistra 3 chiude 2 per tornante destro tornante destro tornante destro per tornante sinistro 100 e attenzione chicane sinistra-destra sinistra-destra 50 chicane singola entra a sinistra sacrifica tornante sinistro e in a destra 2 no sacrifica destra 2 no 70 e stai a destra per tornante destro no a destra per tornante destro no 100 e sacrifica tornante destro sacrifica tornante destro per tornante sinistro 30 destra 3 in sacrifica destra 2 no sacrifica destra 2 no per sinistra 3 in allarga sinistra 3 chiude diventa 2 ma non devi allargar così tanto 3 chiude diventa 2 per tornante destro qua dobbiamo uscire ok per tornante sinistro tornante sinistro e 100 chicane sinistra-destra chicane sinistra-destra 50 chicane entra a sinistra e 50 sinistra 3 per tornante destro doppio su fine sinistra 3 per tornante destro doppio su fine ok grazie a tutti per tornare a sinistra-destra